Francesco Meleca, direttore dell'Automobile Club Molise, insomma ci eravamo trovati a giugno con la vostra Ruote nella Storia, c'è quest'altro appuntamento, questa volta invece avete organizzato un raduno d'auto d'epoca. Esatto, è un raduno che fa parte del progetto Ruote nella Storia, che è un progetto dell'Automobile Club per valorizzare tutti quanti i club storici, ma soprattutto per unire la passione per lo sport con la cultura e la scopertà dei borghi. Quindi noi come Automobile Club Molise ogni anno organizziamo la nostra tappa, quest'anno sarà una bellissima tappa che percorrerà le strade di Campobasso in direzione Larino, percorrendo le vecchie rotte, la SS87, una mitica strada molisana fatta di tantissimi ricordi per gli appassionati. Si arriverà a Larino e poi si proseguirà a Termoli, quindi ci saranno delle viste culturali, quindi per coniugare proprio il concetto che noi cerchiamo di portare avanti, sport, cultura, passione e scopertà dei borghi. Assolutamente, c'è stata anche questa collaborazione con l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, sicuramente un motivo di vanto anche perché la tappa molisana è stata inserita nel calendario nazionale. Esatto, la nostra tappa è nel calendario nazionale e soprattutto i borghi più belli d'Italia è una collaborazione che serve proprio per valorizzare le cose più belle. Il Molise è un luogo stupendo che non è conosciuto da tutti, quindi queste sono le occasioni per far vedere i nostri borghi che sono bellissimi e soprattutto in base al fatto che il raduno verrà visto sui canali Sky, perché là c'è un canale Sky dove pubblica e fa vedere tutte quante queste rassegne e quindi abbiamo già avuto riscontro negli anni passati che i borghi molisani hanno avuto un grandissimo successo nelle nostre puntate. Quindi ben vengano queste iniziative soprattutto per territori ancora da esplorare come il Molise. Con te posso permettermi, volevo fare un ragionamento più ampio, penso che il Molise possa essere una regione che potrebbe vivere di turismo, assolutamente sono dei borghi bellissimi, c'è questo stereotipo del Molise che non esiste ma il Molise è bello. Trovare una regione dove riesci in 70 km a partire dalla montagna, passare per la collina, arrivare al mare, davvero secondo me non ce ne sono in Italia. Esatto, insomma questo è il nostro compito, quello di cercare di valorizzare l'automobile club sul territorio proprio per far crescere il territorio. I borghi molisani non hanno uguali diciamo in Italia perché coniugano la natura incontaminata, posti molto belli con montagna, mare. Quindi noi cerchiamo di percorrerli tutti con le nostre carovane e è chiaro che quando un gruppo di 35-40 macchine storiche percorre questi borghi si valorizzano. La gente ha voglia di venire fuori, di uscire, quindi la possibilità di vivere questi borghi è la cosa più bella che noi cerchiamo di fare. Assolutamente, quindi c'è anche appunto uno scopo sociale, l'automobile club Molise, insomma grazie a te, grazie al presidente Riccardo Tesone, è sempre attivo sul territorio. Queste iniziative fanno del bene anche alle attività commerciali, perché avete mosso tanta gente, vi fermerete a Termoli anche a pranzo, insomma c'è un'esibizione anche a Termoli dei Falconieri. Davvero c'è la possibilità di muovere anche un po' l'economia della regione. Assolutamente sì, il motivo è anche questo, quando organizziamo i nostri raduni ci sono macchine che vengono da tantissime altre città, da Roma, da Napoli, da Bari. Quindi c'è un movimento di persone che viene così, anche gli altri eventi, al di là del raduno noi organizziamo lo slalom, il rally, quelli sono eventi che in quei giorni riempiono tutti gli alberghi, non solo di Campobasso, ma quasi di tutta la provincia. Quindi sono eventi molto importanti che danno risalto, noi comunque come Automobile Cremolise partecipiamo alle gare più importanti, lo slalom fa parte del campionato nazionale, lo slalom, il rally. Quindi ci muoviamo su tutti i campi proprio per valorizzare il territorio e chiaramente l'economia ne ha un grande beneficio sotto tutti i settori.